E allora un ultimo messaggio Ciao Pino, ancora oggi in tv Soprattutto su Mediaset Dove Barbara D'Urso fa sciacallaggio mediatico su Sarasgazzi Domandano ai cittadini di Avetrana Se sia giusto dare l'ergastolo per questa storia Tu come la vedi? Io gliene darei 10 di ergastoli 10 Ma poi dico a sta gente, ma confessate Avete fatto spendere allo Stato un sacco di soldi Ma confessate, pulitemi la coscienza Pulitemi la coscienza, ma non avete vergogna di quello che avete fatto? Ma anche adesso la mamma che si fa intervistare da Barbara D'Urso Ma mandali a fare in culo tutti sti stronzi Tutta sta gente, sti sciacalli Grazie a tutti